Considero tra i miei maestri italiani quattro maestri, io considero questi quattro sono Francesco Severi, Benedetto Segre, Giuseppe Gherardelli e Paolo Salmon. Allora, naturalmente non posso dire qui tutti i risultati di questi autori che io ho migliorato, perché allora dovrei stare qui non 15 minuti ma 150 minuti. Farò una brevissima accenno ad alcune delle ricerche di questi quattro, dell'attività di questi quattro che io in qualche modo ho migliorato. Per Francesco Severi io ho migliorato alcuni risultati di geometria algebrica, uno di questi è aver precisato la nozione di intersezione che è una nozione chiave nella geometria algebrica. Proprio approfondendo questa nozione di intersezione praticamente si viene a conoscenza di risultati di geometria algebrica. Ora, il punto di partenza è un dibattito tra Oscar Perron e Francesco Severi che si è protratto per molti anni perché in parte si è svolto durante la Seconda Guerra Mondiale. e allora ovviamente i rapporti non erano diciamo così molto rapidi. E il punto qual era? Era questo. Perron aveva dato degli esempi geometrici molto interessanti, ma uno di questi era quello che adesso io spiego. Prendiamo una sfera unitaria nello spazio tridimensionale in P3, lo spazio proiettivo tridimensionale, consideriamo una sfera di raggio unitario, quella che grossomodo si può esprimere, cioè quella che si può esprimere con un'espressione x al quadrato più y al quadrato più z al quadrato uguale 1. Questa è una sfera unitaria che ha centro nell'origine il raggio 1. E l'equazione è x quadro più y al quadrato più z al quadrato meno 1 uguale 0, oppure uguale 1. Va bene? Ecco. Allora, consideriamo poi il cilindro che proietta dal punto all'efinito dell'asse z la sfera unitaria che noi stiamo trattando. Se poi noi prendiamo il sistema cilindro e sfera, noi che cosa abbiamo? Abbiamo una costruzione geometrica. Però dal punto di vista algebrico, dal punto di vista insieme mistico, l'intersezione del cilindro e della sfera è una circonferenza. Comunque noi abbiamo la parola intersezione. La parola intersezione è una parola chiave nella geometria algebrica. Però al tempo della polemia che ci fu tra Severi e Perron, la parola intersezione non era ben interpretata. Va bene? E chi ha interpretato bene è stato Mare Ferentini. Ha studiato questo problema insieme all'ASCU, però la denominazione è stata data da Mare Ferentini essenzialmente scritta. E allora noi abbiamo la parola intersezione, che è una parola chiave in geometria algebrica. Però al tempo di Severi e Perron, siamo alla Seconda Guerra Mondiale tanti anni fa, non era molto conosciuta questo fatto matematico importante. Perché loro consideravano solo l'intersezione insiemistica? Mancavano loro due tipi di intersezione. L'intersezione schematica è l'intersezione algebrica. L'intersezione schematica è stata messa a fuoco da Mare Ferentini, è stata data da Mare Ferentini e anche avvalendosi in parte di alcune vedute di Francesco Severi. Però Francesco Severi non poteva chiarire bene questo problema. Perché? Perché gli mancava il linguaggio degli schemi di Grotendich. Severi non ha studiato Alessandro Grotendich. E Alessandro Grotendich ha studiato gli schemi. E allora l'intersezione schematica lui non la conosceva. Presentiva, è stato un precursore, perché Severi era un matematico mondiale di valore, ha intuizioni. Le sue intuizioni sono state al centro delle ricerche di 50 anni, di 60 anni di ricerche. Va bene? E allora oggi noi possiamo considerare la parola intersezione in triplice vesta, intersezione insiemistica Perron, intersezione schematica Grotendich-Fiorentini, intersezione algebrica Macaulai. Va bene? Ecco. E allora questo è un contributo notevole che io credo di aver dato all'opera di Severi. Per quanto concerne Beniamino Segre, ecco, io mi considero un allievo, anche perché è stato il matematico che ha presentato i miei primi tre lavori di ricerca matematica, e perciò sono un suo allievo, chiaramente. Ma io non sono solo un suo allievo, io ho migliorato i suoi risultati. Va bene? Non posso raccontare tutti i risultati che io ho migliorato di Segre, perché sono stato accanto a lui alcuni decenni e lui sempre mi ha considerato come un suo allievo, anzi un suo allievo molto bravo. Va bene? Allora, adesso per Beniamino Segre qui io cito un paio dei risultati che ritengo di aver ottenuto, e che sono estensioni dei risultati di Beniamino Segre. Beniamino Segre ha pubblicato, scritto e pubblicato, un articolo molto importante intitolato Geometria delle matrici quadrate. Va bene? Io ho fatto una ricerca su un ambito un po' più generale, cioè geometria delle matrici rettangolari, che è un'amplificazione delle matrici quadrate. Va bene? E su questo ho fatto seminari all'Istituto Castelnuovo di Roma, ho dato lezioni, ho fatto tesi, insomma ho progredito sulla linea di quello che aveva fatto Beniamino Segre. Va bene? Un altro argomento di Beniamino Segre che io ho migliorato e ho migliorato grandemente, si trova in questo libro. Questo è un libro che io reputo è all'altezza degli scritti dei grandi matematici italiani, Peano e Peano, Guido Castelnuovo e Enriques. Ecco, da solo tre, Peano, Castelnuovo e Enriques. Questo libro non teme il confronto con qualunque scritto che è stato fatto in Italia di matematica, pubblicato in libro. Allora in questo libro a pagina 219 c'è un articolo che è scritto in italiano. Ora questo libro mio, che è la mia Bibbia, cioè dove si incontra, ci sono 40 lavori miei, parte scritti da me, parte in collaborazione, parte in collaborazione, e c'è qui un capitolo intituto alla rappresentazione semi monoidale di Beniamino Segre. Questa è stata suggerita da me, come si evince poi leggendo l'articolo. Si vede che la rappresentazione monoidale semi monoidale di Beniamino Segre è stata suggerita da Mare Ferentini e da Alessandro Lasco. Ecco, io qui non posso, anzi dovrei fare una piccola parentesi. In questo libro ci sono 40 articoli che sono stati miei, però o miei o da solo o in collaborazione. Va bene? Tra questi 40 articoli ci sono 10 che ho fatti in collaborazione con Alessandro Lasco. Per cui le sue ricerche e le mie ricerche si confondono. Abbiamo scritto insieme, abbiamo pubblicato, cioè ne abbiamo scritti più di 10, perché abbiamo anche degli articoli che non sono ancora pubblicati. Comunque abbiamo 10 articoli che si trovano in questo libro. Adesso io spero di fare un libretto sui 10 articoli che abbiamo scritto in collaborazione con Alessandro Lasco e Mario Ferentini, anche perché Alessandro Lasco è morto tragicamente ed è una figura che va riportata. E va riportata perché lui è stato un protagonista di due grandi comunità matematiche. Lui è il cofondatore, è stato il cofondatore insieme a Giorgio Galvora della scuola di geometria algebrica romena, che è una delle più forti al mondo. Va bene? Ma Alessandro Lasco è stato anche, è venuto in Italia, ha fatto il concorso, è diventato professore e si può considerare un matematico italo-romeno, diciamo, perché ha lavorato in Italia e purtroppo è morto tragicamente e si trova seppellito a Ferrara. Qual è il mio apporto alla matematica di Garardelli? Garardelli è un professore italiano di liceo che a un certo momento ha chiesto di partecipare a una borsa di studio all'alta matematica e negli anni 42 e nell'anno 43 lui è stato a Roma all'alta matematica e ha lavorato alle dipendenze di Francesco Severi e lui ha dato due teoremi di geometria algebrica. Questi due teoremi sono tra i teoremi più importanti del secolo, sulle curve sghembe di P3. Questi due teoremi però non sono stati percepiti dalla comunità matematica mondiale, o perlomeno sono stati percepiti ma in modo sbagliato. Va bene? Perché il primo teorema di Garardelli è stato rifatto da Jean-Pierre Serre, migliorandolo di poco. Però Serre non ha detto che il teorema era di Gerardelli e che lui migliorava un teorema di Garardelli, non ha citato Garardelli. Va bene? Il secondo teorema è stato ripreso e migliorato da Rao, un matematico indiano, il quale sotto la guida di Robin Arson ha fatto un teorema, una tessi sul secondo teorema di Garardelli. Rao, a differenza di Serre che aveva migliorato poco il risultato di Garardelli, Rao invece ha fatto un miglioramento sensibile del teorema di Garardelli e ha dato un contributo veramente eccezionale a questo teorema. Ripeto, i due teoremi di Garardelli sono tra i due teoremi più importanti del secolo, però per 30 anni sono stati completamente ignorati. Garardelli è morto dopo poco aver fatto questi due teoremi e di lui non si è saputo. Io ho incontrato Serre e Rao. Quando una sera a Roma in una conferenza ho incontrato, Serre gli ho detto ma perché lei ha rifatto un teorema di Garardelli migliorandolo e di poco senza citare Garardelli? Garardelli è morto senza che si conoscesse che lui aveva fatto questi due teoremi, il suo teorema. E lui mi ha detto ma vede questo è avvenuto durante la guerra e allora i rapporti tra noi francesi non erano molto semplici. Io non ho saputo che Garardelli aveva fatto quel teorema. Vabbè, lui non l'aveva saputo ma non è che se l'ha inventato lui il teorema. Il teorema gliel'è stato raccontato da qualcuno. Cioè c'è stato qualcuno che conosceva il teorema di Garardelli e ha detto guarda c'è questo teorema però si può fare invece che nel caso locale e nel caso graduato e si può migliorare. E lui ha migliorato questo teorema e non ha citato Garardelli. Sono molto dispiaciuto, vedrò di fare un'annotazione e ricorderò che Garardelli mi ha preceduto, ha fatto la prima sesura di questo teorema che poi ho migliorato sia pure come lei dice di poco. Poi ho interrogato Rao, ho invitato Rao a Ferrara. Lui è venuto e gli ha detto senti tu hai pubblicato un bellissimo articolo che migliora un teorema di Garardelli ma non hai citato Garardelli. Sembra che l'hai inventato tu il teorema. No, il teorema l'ha inventato Garardelli, tu l'hai migliorato. Eh, non è la stessa cosa. E allora Rao mi ha detto questo, dice guardi io non ho conosciuto Garardelli, non sapevo che Garardelli, il mio relatore della tesi, Robin Archer, non mi ha detto che quel teorema l'aveva fatto Garardelli in una certa maniera è stato migliorato. Perciò io proprio non ne so niente. Però io gli ho dato l'articolo, insomma gli ho dato tutte le... e poi dopo lui mi ha scritto e ho detto ma ho riguardato, dice sì, vabbè Garardelli ha fatto questo, ma io ho lavorato con tecniche molto diverse, con una cultura molto diversa, molto più algebrica. Perché Rao era un grande algebrista omologico, capisci? Allora si è espresso in modo diverso. Allora lui si è scusato, mi dispiace, ma io non ho mai inteso parlare di Garardelli. Il mio direttore della tesi, Robin Archer, non mi ha detto che quel teorema... Cioè mi ha dato il teorema, ma non mi ha detto che l'aveva fatto Garardelli in una prima fase. Capito? E Rao si è scusato con me. Adesso però che è successo? Che dopo trent'anni Lasco ed io, dopo trent'anni di grande fatica, perché rifare una cosa che è stata fatta da altri, eccetera, è più difficile che fare un teorema nuovo. È uscito in America un articolo in inglese, Two Theorem of Giuseppe Garardelli, due teoremi di Giuseppe Garardelli, scritto da me di Lasco, dove i due teoremi di Garardelli vengono rifatti e con un linguaggio più moderno, più aggiornato. Questo è il contributo che noi abbiamo dato a Giuseppe Garardelli. Il quarto matematico di cui ci sentiamo discepoli, ricercatori, perché abbiamo migliorato i suoi risultati, è stato Paolo Salmon. Perché? Perché Paolo Salmon, a mio avviso, è stato l'italiano che ha assegnato in un qualche modo la nascita dell'algebra commutativa. Ora l'algebra commutativa è nella sua applicazione alla geometria elgebrica. L'algebra commutativa in alcuni paesi, come la Germania, la Francia, nascono molto più presto, diciamo. Invece in Italia, grossomodo nascono nel 1965, perché esce un articolo a firma di Pier Samuel, Artibano Micali e Paolo Salmon, praticamente sulla nascita dell'algebra commutativa in Italia. E questo articolo è un po' la bandiera della scuola italiana di algebra commutativa. Siccome io insieme a Paolo Salmon, a Silvio Greco e a Paolo Valbrega, sono considerato uno dei padri nobili dell'algebra commutativa in Italia, allora io cito Paolo Salmon. E questi quattro sono i quattro matematici italiani di cui io mi sento, li sento come i miei maestri, cioè nel senso che io sono stato un loro discepolo ricercatore, perché ho migliorato quello che allora avevano fatto, le loro ricerche. I miei maestri italiani sono Francesco Severi, Pediamino Segre, Giuseppe Gerardelli e Paolo Salmon. Punto e basta.